Romina Carrisi ha espresso con vehemenza la sua indignazione nei confronti di Fiorello, accusandolo di bullismo a seguito di alcuni scherzi fatti sul nome del suo appena nato figlio durante la sua partecipazione a Vivarai 2. La figlia di Albano e Romina, recentemente diventata mamma, ha deciso di difendere con fermezza la scelta del nome del suo bambino, Axel Lupo, frutto dell'amore con il compagno Stefano Rastelli. Attraverso le storie su Instagram, Romina ha inviato un messaggio diretto a Fiorello, etichettandolo e esprimendo la sua netta disapprovazione per ciò che considera un atteggiamento di cattivo gusto. Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì, certo Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo e non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena, sua sorella, per i vostri nomi e questo da neomadre mi dispiace. Baci e buon Sanremo. Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque. Fiorello. Al momento, ha scelto di non replicare alle accuse di Romina, ma la situazione potrebbe evolversi durante una possibile risposta lunedì mattina durante una diretta su Rai 2. Oppure potrebbe decidere di lasciar correre la polemica. Nel frattempo, questa mattina, Romina Carrisi ha lasciato l'ospedale Fatebene Fratelli di Roma, luogo in cui ha dato alla luce il bambino, per fare ritorno a casa con il neonato e il compagno Stefano Rastelli. Inizia così una nuova fase nella vita di Romina come neomadre, affrontando le sfide e le gioie che questo nuovo capitolo le riserverà. La sua determinazione nel difendere il nome scelto per il figlio sottolinea il legame affettivo e l'importanza che attribuisce a questa esperienza di maternità.